Il problema che io avevo sollevato doveva essere eliminato a tutti i suoi giovani calcone e forse questo io l'avevo cura a tutti i suoi giovani calcone perché ero convinto che doveva essere eliminato come un uomo almeno tutto se deve essere eliminato l'Opino Repubblica doveva sapere e doveva riconoscere e se non puro affinare deve morire davanti a tutti non deve morire in scuola Allora l'Opino Repubblica fece il diacolo perché mi porto quella saldissima estate dell'agosto del 1988 l'Opino Repubblica di Montpirito l'Opino Repubblica di Montpirito è costrinta il Consiglio Superiore della Magistratura a rimangiare in parte la sua precedente decisione dei primi di agosto tant'è che il 15 settembre seppur sottitamente il pull anti-mafia fu rimesso in piedi l'Opino Repubblica di Montpirito 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.